Musica Nell'era dell'impresa 4.0 si aprono nuovi scenari per la tutela dei lavoratori, professionalità diverse a confronto per una riflessione congiunta sul futuro, per contribuire a disegnare un percorso di rinnovamento, un'integrazione di esperienze e di competenze al servizio della conoscenza. Dalla rilevazione all'analisi dei dati per migliorare la competitività del sistema produttivo e la sostenibilità dei processi di lavoro. I cambiamenti della Gig Economy stanno trasformando il mondo del lavoro, l'impresa 4.0 chiede nuove competenze e incentiva la necessità di formazione. È necessario utilizzare con profitto le tecnologie digitali per migliorare le condizioni di salute e sicurezza sul lavoro. Competenza e multidisciplinarità sono al servizio di un obiettivo sfidante, la Vision Zero, una possibilità concreta per la prevenzione di infortuni e di malattie professionali. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!